Siamo bravissimi a complicarci la vita, noi siamo bravissimi a complicarci la vita, io non so come cazzo facciamo, non lo so, porca puttana, non so come riusciamo, quando ci sono queste partite così importanti, decisive, che valgono una stagione, a complicarci la nostra cazzo di vita. Oggi bastava fare un punto, dovevamo fare un punto, che cazzo abbiamo fatto? Perdiamo, con chi abbiamo perso? Con i pascolani, con i pascolani, ci abbiamo perso con i pascolani, cioè io non lo so, una partita segnata purtroppo ci sta da dire, quando c'è da dire bene, diciamo bene, quando c'è da dire qualcosa che non va, non va. Oggi purtroppo l'amico mio, Andrea, la combiata grossa. Sì, qualcuno forse mi dice il fallo non era da espulsione, non l'ha preso sul braccio, non era un intervento votato a fare il fallo sull'avversario, mi voleva prendere il pallone, però, Cristo Santo, tu al decimo minuto del primo tempo non puoi fare un'entrata del genere a centrocampo. Non lo puoi fare, mi dispiace, mi dispiace che è capiato Andrea, non gliene faccio una colpa, ma come non l'avrei fatto a nessuno, perché noi a Pescara abbiamo un brutto difetto, quello di prendere di mira chi fa un errore. Tutti quanti possono sbagliare, Pettinara ha sbagliato il rigore, Crescenzi si è fatto cacciare a Vercelli, oggi Andrea si è fatto cacciare con Lascoli e abbiamo giocato un'altra partita in dieci. Io non lo so da che cosa dipende, forse dal fatto che questi ragazzi sentono troppa pressione da troppo tempo, sono nervosi, giocano con il fiato sul collo, evidentemente il nervosismo, poi l'adrenalina in campo si trasforma in questo e succede ciò che non deve succedere. A me dispiace perché Andrea è un mio caro amico, gli voglio bene, ha sempre indossato i nostri colori e ha sempre onorato la maglia, è uno di quelli che ha sempre onorato la maglia, quindi per me è intoccabile come persona, come uomo, come calciatore. Oggi purtroppo ha sbagliato, lui lo sa, io gliel'ho detto anche personalmente e non me ne faccio remore a dirglielo, quindi io sono una persona onesta e obiettiva, quando c'è da elogiare erogio, quando c'è da dire qualcosa che non va, non va. E oggi sto cazzo di Pescara non va, perché tu oggi dovevi soltanto semplicemente giocarti una partita e anche pareggiarla con questi qua, e invece l'abbiamo persa nel modo più stupide possibile. Siamo stati dei polli, porca puttana, dei polli, perché tu ti fai fare quel gol di merda come al solito, una punizione innocua da 35-40 metri, cross in mezzo, spizza la palla di testa, gol, cioè io non ci riesco a credere. Non lo so il perché accade, sarà disattenzione, sarà che non siamo preparati, però ci capita da troppo tempo e io non capisco perché gli altri poi riescono a fare queste cose, mentre noi non riusciamo mai a sfruttare questi calci di punizione e calci d'angolo. Voi mi direte, sì è vero abbiamo giocato in 11 contro 10 per 80 minuti, no, non esiste. Cioè oggi, per ragione di cronaca, dobbiamo dire che Lascoli ha meritato la vittoria, cioè Lascoli ha meritato di vincere, ha beccato due o tre pali, non lo so, ne abbiamo beccati anche noi, però loro sull'1-0 hanno beccato due pali, hanno fatto 3-4 azioni clamorose di cui Fiorillo ha fatto alcune parate, cioè proprio dei miracoli. Quindi dobbiamo anche riconoscere quando meritiamo una sconfitta. C'è da dire che però abbiamo lottato fino alla fine, i ragazzi si sono impegnati, purtroppo però giocare in 10 una partita con questo caldo di oggi è stato difficile. Penso che poi alla fine la stanchezza la paghi e quindi il fatto di aver giocato in inferiorità numerica ha avvantaggiato Lascoli. Che altro dire, la situazione in classifica è diventata veramente pericolosa perché siamo tutti quanti lì e a noi ci basta un punto. Ci basta un punto al Venezia che oggi ha perso 5-1 con la Cremonese, è inutile fare i calcoli. Qui stiamo troppo a guardare le tabelle, i calcoli, le squadre, gli scontri diretti, i punti, le differenze reti, le differenze di partite, gli scontri diretti. Qui si vede se veramente abbiamo le palle, caro Pilon, adesso si vede. Adesso dobbiamo avere veramente due palle quadrate, dobbiamo andare a Venezia, dobbiamo fare una prestazione con i controcazzi e andare lì almeno a pareggiare. Almeno ci basta un santo di punto, un solo punto, un punto e siamo salvi per un punto. Non ci potremmo far fregare a QC, sarebbe veramente da pazzi andare a fare dei play-out per un punto. Cioè veramente da folli, da folli e niente, purtroppo oggi Cosmi si è ripreso ciò che purtroppo il calcio ti dà e il calcio ti toglie. Purtroppo in alcune situazioni noi ce l'abbiamo presa a Cosmi, oggi Cosmi ci ha fatto lo scherzetto. C'è da dare a Cesare quel che è di Cesare, l'Ascoli ha fatto la sua partita, si buttavano continuamente a terra, perdite di tempo. C'è da dire che secondo me l'arbitro di oggi è stato scandaloso, scandaloso è stato l'arbitro di oggi. Sono appena tornato a casa adesso da 20 minuti, sono rimasto sotto la curva, sono rimasto a parlare un po' a fine partita con i giocatori, cercavo anche di ringorrarli e dargli una carica. Vorrei salutare quei tre ragazzi che sono venuti da vasto, che ho conosciuto personalmente, che mi hanno detto che mi seguivano qui sul canale. Quindi vi saluto, scusatemi se non mi ricordo i nomi ma oggi ho la testa sulle nuvole. E niente, sono rimasto lì, allo stadio, ho stato con un po' i giocatori, ho visto delle facce un po' spente, un po' frante. Quindi adesso dobbiamo fare veramente tifosi, adesso dobbiamo incoraggiare questi ragazzi, dobbiamo ritirargli su il morale, dobbiamo cacciare le palle e fargli vedere che ci crediamo prima noi a questa salvezza e poi anche loro. Quindi adesso mi raccomando, chi può, vada a Venezia venerdì, mi muore perché io non posso andare, però io venerdì sera penso che mi possa pure morire. Venerdì sera muoio. Quindi se non vedete più video è perché 1936 solo Isa Mort, sicuro, sicuro, terapia intensiva all'ospedale, sicuro. Cioè, non lo so. Penso che sarà una partita che mi farà star male, la posso pagare forse a Trapani Pescara e il ritorno. Più o meno quella partita lì. E niente, io sono ancora troppo incazzato, non so se questo video vi piacerà, però io sono fatto così, sono molto genuino, sono spontaneo, non mi scrivo ciò che devo dire, non ho copioni, non ho nulla. Io sono spontaneo e quindi quando faccio i video, se dovessi togliere questa mia spontaneità, non sarei io. E sono incazzato, incazzato nero perché tutto dovevamo fare oggi, ma tranne questa partita. E poi soprattutto con sto cazzo di Ascoli, io non lo so perché, da qualche anno a sta parte, sto cazzo di Ascoli ci rompe tremendamente le palle e c'ho le palle girate. Soprattutto per tutte quelle persone che adesso stanno venendo qui sul mio canale, è bello parlare prima, cioè parlare dopo. Parlerò, ma cacciate le palle, come faccio io che io parlo prima? Voi siete tutti capiscioni, poi arrivano quelli che si mettono a parlare dopo, che si mettono a scrivere, a commentare, ma sì, fate quello che volete, perché da una orecchia mi entra e dall'altra mi esce, cioè non è che me ne frega più di tanto. Questo è il mio canale, questo è il mio spazio, io dico ciò che penso e lo dico sempre. Secondo me oggi se Coda comunque non si faceva espellere dopo dieci minuti, non credo che l'Ascoli l'avrebbe poi vinta questa partita, perché nonostante l'inveriorità numerica noi avevamo fatto un po' il pello e il contropelo, eh. Ci sta il portiere dell'Ascoli che oggi non è che è stata tanto tranquilla la partita per lui. Poi, le partite si sa, si possono vincere, si possono perdere, l'importante è giocare dignitatamente. L'unica cosa è questo stronzo di arbitro che oggi ha messo del suo perché non ha mai ammonito un giocatore dell'Ascoli quando c'era da farlo, ha fischiato le punizioni al senso unico, poi quando ho visto il cambio fallo su Fiamozzi, un cambio fallo su una rimessa laterale, ha dato il cambio fallo che secondo me il poveretto ha battuto pure bene, vabbè, lì ho visto proprio l'impossibile, ho capito che è un po' l'arbitro sto Aureliano. Farà carriere, questo è l'altro uno come Bergonzi che farà carriera, voi lo conoscete Bergonzi, questo è l'altro uno che farà carriera. Va bene, io ragazzi, adesso vi saluto, vi lascio, mi raccomando lasciate il like se il video vi è piaciuto, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, voglio che vi iscrivete, voglio arrivare a mille iscritti, ripeto, mille iscritti e poi ci sarà una sorpresa per tutti, una bellissima sorpresa, quindi iscrivetevi tutti, fatemi crescere, lasciatemi i like. Ciao a tutti e sempre Forza Pescara, gufi, merda, non ci salveremo, il Pescara si salverà, ciao!